Io inizio subito col ringraziare sentitamente di cuore tutti i colleghi che hanno scioperato con noi, hanno riempito le piazze e in particolare per quelli della mia terra, scusate se la cito, ma ci tengo in modo particolare in una terra dove una disoccupazione dilagante sta falcidiando le famiglie rinunciare a una giornata di sciopero è un gesto eroico e questo è un applauso che faccio a tutti. Le assemblee sono state partecipate e i colleghi lo si leggeva in faccia, c'era la consapevolezza e c'è la consapevolezza che la nostra piattaforma, quella che abbiamo presentato all'ABI per il rinnovo del contratto nazionale è parte integrante del futuro del settore bancario, è parte integrante del nostro futuro e del futuro dei nostri figli, per i lavoratori di oggi e di domani, perché è chiaro a tutti che ABI sta cambiando completamente lo scenario in Italia, lo scenario commerciale delle banche in Italia, lo scenario contrattuale normativo di tutto il sistema contrattuale in Italia, col concorso anche di Ania, di Federcasse e chi più ne ha più ne metta, si sta andando in una direzione che a noi non piace, noi insistiamo affinché ABI persegua ciò che noi abbiamo proposto nella piattaforma e cioè che ci sia un settore, anche se loro non lo definiscono tale, ma è un settore bancario, per un supporto reale ai bisogni delle nostre economie, perché io lo dico da sempre, noi esistiamo perché altri esistono, perché ci sono le famiglie da proteggere e da fare investimenti, perché c'è un'industria finanziaria, perché le banche nascono per la protezione e per lo sviluppo dei territori, noi crediamo che lo sviluppo territoriale sia fondamentale, perché se no gli istituti di credito investiranno solo ed esclusivamente dove c'è già il danaro, perché c'è l'idea che tu possa fare i soldi con i soldi, che gli ingegneri tornino a fare i progetti per le aeree e per le costruzioni e che la smettessero di fare le schifezze dei prodotti finanziari, sugli hedge funds, su tutta questa serie di roba che ha invaso il mondo e che non serve all'economia reale, non serve allo sviluppo di una società moderna e coesa, non serve, serve invece ad arricchire quelle persone che già hanno il denaro, lo citava Carmelo prima, è una percentuale sempre del 10% ma che ha aumentato a dismisura la propria percentuale di ricchezza a discapito della fascia più debole e quindi che ruolo vogliono avere oggi le banche in Italia? Che ruolo vogliono avere oggi le banche in Italia? Se non quel ruolo che noi proponiamo di sviluppo, veicolate gli investimenti, ce ne sarà bisogno, lo diceva Massimo e Carmelo, gli investimenti sono l'unica soluzione al momento per poter far ripartire il paese. Il contratto nazionale, il nostro contratto si inserisce in questo quadro, ma il contratto nazionale è la nostra casa, è la casa costruita in tantissimi anni mattone per mattone, la vogliono completamente distruggere, smantellare, ma verso che cosa? Verso un nomadismo contrattuale, un attendopoli contrattuale dove ci saranno miriade di contratti e contrattini senza nessun peso politico. L'area contrattuale è qualcosa di fondamentale, lo abbiamo ricordato nelle assemblee, l'abbiamo conquistato negli anni 80 con oltre 90 ore di sciopero, 90 ore di sciopero, ed è un nostro preciso dovere tenere barra dritta su questo, perché noi abbiamo ereditato da altri una situazione sotto questo punto di vista importante, vorremmo non lasciare le macerie al prossimo. Quindi quello che ci hanno detto i colleghi nelle assemblee è anche di continuare così. Sono disposti al sacrificio, perché c'è la consapevolezza. Inutile, il controparte ci dice che viviamo sulla luna, che non comprendiamo. Noi comprendiamo benissimo, i nostri studi di settore sono all'avanguardia. Comprendiamo bene, comprendiamo bene che l'Europa sta andando in una certa direzione, che l'economia americana, che che se ne dica, oggi è la meno globalizzata. È un'economia che è fintamente liberale, ma si protegge al proprio interno. Esporta al 10%, importa al 14%, è sostanzialmente, è fortemente indebitata con moltissimi paesi, la Cina, il Giappone, i paesi arabi e anche la Russia. Quindi tutto il suo movimento geopolitico, anche di questi giorni, ha ragion d'essere anche in virtù di ciò, anche in virtù di ciò, ci si muove anche sotto queste, sotto queste ottiche. Pensate che sono oltre 100.000 i negoziati fuori dalle regole, i cosiddetti over the counter. Stiamo parlando di cifre enormi, di cifre enormi. Ma lì l'Europa sta a guardare, sta a guardare, nessun legislatore ha messo mano a queste robe e queste robe sono tutte non sottoposte al controllo. Tutte speculazioni, io ripeto, che non danno contributo concreto alle nostre economie. Noi abbiamo necessità di investimenti utili, di investimenti utili sia pubblici che privati, perché il PIL senza occupazione sarà un falso, sarà definito un falso storico. Non esiste, è un qualcosa veramente solo sulla carta. Tu puoi far crescere le economie, coi pulsanti e coi bottoni. Però è sempre in quel giro ristretto del 10%, non ci saranno ricadute. È il nostro contratto, il contratto ABIL, il contratto non dei banchieri ma dei banchiari, il nostro contratto. Quello che è una visione di lungo periodo, è quello che vogliamo. È quello che vogliamo e riproponiamo, perché bisogna che ci sieda al tavolo. Dicevi bene tu Massimo, noi certi pregiudiziali non le accettiamo, perché l'operazione sul TFR va in direzione, anche diametralmente opposta a ciò che le banche sino a ieri hanno predicato. La cosiddetta terza gamba riferita ai fondi pensioni. Ci sono tutta una serie di ragionamenti che non stanno andando in quella direzione. Si vuole destrutturare completamente anche quello. E non accettiamo le pregiudiziali su queste situazioni. Anche perché lo diceva anche Carmelo. Poi sono situazioni che colpiscono tutti e favoriscono le banche più grandi rispetto alle più piccole. Il sindacato vuole fare accordi, li ha fatti. Gli ha fatti dappertutto gli accordi e vorrà continuare a farli, perché noi esistiamo anche perché siamo sottoscrittori di accordi. Ma le nostre condizioni sono ben chiare a tutti. Sono ben chiare a tutti e i lavoratori le hanno comprese. Le hanno comprese a fondo e ci hanno sostenuto. E sono pronti a sostenerci ancora nel cammino, perché sarà un cammino difficilissimo e importante. Ma la Wilka c'è stata, è stata presente e lo sarà ancora vicino ai lavoratori tutti. Vi ringrazio.